Ciao a tutti ragazzi e bentornati su The Guardians Io sono Splash e oggi siamo qui con l'appuntamento delle esotiche della settimana Xur è arrivato in torre qui come potete vedere dal bar sotto all'hangar delle navette e vi ricordo che sarà in torre dalle 10 del mattino di venerdì fino alle 10 della domenica mattina andiamo quindi a vedere che cosa ci porta questa settimana il nostro carissimo agente dei nove per prima cosa abbiamo un elmo indistruttibile un elmo per la classe del titano che arriva dall'anno 1 qui ovviamente portato all'anno 2 abbiamo come perk intrinsico la trasfusione migliorata con cui le uccisioni del pugno della tempesta attivano istantaneamente la rigenerazione della luce della salute scusate e si rientra in gioco con l'energia corpo a corpo piena inoltre si ottiene una carica aggiuntiva di energia corpo a corpo quindi un elmo molto adatto ovviamente al pugno della tempesta quindi all'assaltatore come classe davvero buono comunque secondo me un aumento di intelletto, abbiamo un aumento di forza abbiamo mani nel sacco con cui uccidere mosse dell'oscurità col corpo a corpo fornisce super energia bonus abbiamo carico pesante con cui la stessa cosa succede però con armi pesanti e poi abbiamo rimigorimento con cui abbiamo un energia bonus al corpo a corpo quando raccogliamo una sfera di luce quindi diciamo un elmo che probabilmente è anche abbastanza buono in pvp io onestamente non l'ho mai utilizzato tantissimo anche se è stato il mio primo elmo per il titano come esotico però comunque mi ci sono sempre trovato abbastanza bene e comunque si per la classe assaltatore è veramente un buon elmo per quanto riguarda il cacciatore abbiamo il simbionte a cleofago un pezzo davvero imperdibile finalmente è stato portato con l'update di dicembre all'anno 2.0 imperdibile soprattutto per i cacciatori amanti del pvp perché ve lo mostro abbiamo ultimo uomo con cui si ottiene un colpo in più per la pistola d'oro quindi invece di 3 colpi 4 colpi per la pistola d'oro quindi la super da fuoco del cacciatore un pezzo davvero interessantissimo in questo caso abbiamo anche un aumento di forza e di intelletto abbiamo polvere dell'asset con cui le granate forniscono super energia bonus ripensamento poi abbiamo innervazione ovvero energia bonus delle granate quando si raccoglie una sfera di luce questo vi consiglio veramente tanto di prenderlo può essere ovviamente utile nelle prove di Osiride se non volete usare o se non potete usare il cimiero per rianimare più velocemente davvero un pezzo stra consigliato finalmente poi è arrivato nell'anno 2 quindi cogliete l'occasione di prenderlo perché è davvero imperdibile io purtroppo l'ho già comprato dagli schemi esotici l'ho già portato a una luce abbastanza alta rispetto a questo comunque se ne avete bisogno compratelo assolutamente consigliatissimo per quanto riguarda lo stregone abbiamo il cuore del fuoco prassico dedicato principalmente alla sottoclasse del cantore del sole infatti vedete che il perk principale è sia l'ho dato il sole che riduce il tempo di recupero di tutte le abilità mentre la radianza è attiva inoltre ci fornisce un'agilità notevolmente aumentata gli altri perk sono un aumento di intelletto o di disciplina un aumento di munizioni per i canoni portatili o per i fucili a fusione e in più abbiamo una riduzione dei danni subiti dalle bracci solari oppure un aumento di armatura mentre si utilizza appunto la sottoclasse solare dello stregone un pezzo che comunque può essere utilizzato per svariati motivi non è per niente male per quanto riguarda l'arma abbiamo il dura luce un pezzo che deriva dall'anno 1 che è stato portato da poco dall'update di dicembre da parte di Bungie per Destiny il re dei corrotti un'arma che a me nell'anno 1 piaceva veramente tanto è stato uno dei miei primi esotici finché gli automatici non sono stati depotenziati così tanto lo utilizzavo veramente molto mi piaceva il design, mi piace l'arma onestamente per quanto comunque non abbia visto tutto questo upgrade dei fucili automatici con l'update di dicembre io ho un'arma che mi sento di consigliarvi perché è veramente bella da usare e secondo me comunque è tanto tanto utilizzabile al momento su Destiny infine abbiamo l'engramma storico che ci permette dell'arma speciale che ci permette di trovare appunto un'arma speciale dell'anno 1 abbiamo ovviamente tutte le curiosità solite di Xur quindi i propulsori, le sintesi pesanti, i 3 di ori, gli aghi di vetro e lo scambio di materiale con cui per due estrane monete possiamo ottenere una particella di luce bene ragazzi io con questo vi saluto grazie per la visione di questo video spero che vi sia piaciuto in caso fosse così ovviamente lasciate un like iscrivetevi al canale potete anche seguirci su Facebook, su Twitter, su Instagram, su Twitch e su Bungie.net dove potete trovare il nostro clan dei Guardian Sith alla prossima, ciao a tutti i guardiani